Benvenuti ad Acqua e Sapone News, il notiziario del risparmio e della convenienza. Pronti per ripartire insieme? Io con te verrei ovunque. Anche io ma almeno a due metri di distanza. Linea ad Alessia Mancini! Grazie della linea. Coccolino ammorbidente concentrato da 60 lavaggi e in offerta ad 1,99€. Lasciati coccolare da un'incantevole sensazione di morbidezza e un avvolgente profumo. E solo d'acqua e sapone con l'acquisto di due ammorbidenti coccolino formato XXL, in omaggio alle perle di profumo per il Vucato. E ora una promozione che trovate solo da Acqua e Sapone. Alessia, di che si tratta? Se acquisti due prodotti Carefree, hai in regalo una confezione di salviette intime Carefree all'aloe vera e tè verde. Ideali da tenere in borsa insieme ai Proteggi Sleep Carefree Cotton da 44 pezzi in offerta ad 1,79€. Carefree, il tuo piccolo segreto per sentirti più fresca, più a lungo. E per oggi è tutto. Io vado... Dove? Da Acqua e Sapone. Vengo anch'io. Sì, ma almeno a due metri di distanza. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.